Buongiorno a tutti, mi chiamo Mauro Labanca, vengo dall'Italia, dove ho uno studio privato a Milano da 32 anni. Il mio percorso professionale nasce come medico, chirurgo, mi specializzo in chirurgia generale e poi mi specializzo in odontostomatologia. Questo significa che ho fatto un percorso, credo, completo per poter trattare i miei pazienti non solo da un punto di vista puramente odontoiatrico, ma anche e soprattutto con un inquadramento di tipo medico, per poter capire meglio e di più le esigenze del mio paziente al di là del problema dentale puro. Ho cercato anche, con il mio percorso professionale, di portare all'interno dell'odontoiatria un concetto più chirurgico che ho imparato nei miei tanti anni di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Credo che una delle qualità principali sia di fare le proprie cose con passione, ecco perché alla domanda cosa ci deve essere dietro l'uomo, il mio motto che c'è nella mia vita è do it with passion. Io credo che la passione debba sempre guidare il nostro operato, prima umano e poi professionale. Quando io ho iniziato a lavorare, come dicevo prima, come chirurgo prima e odontoiatra poi, molte cose erano diverse rispetto ad ora. Se penso alla chirurgia generale che si faceva con grandi incisioni e che oggi è diventata chirurgia endoscopica. L'odontoiatria è una disciplina molto tecnologica e l'odontoiatria ha vissuto in maniera molto forte questo continuo cambiamento. Quando io ho iniziato alcune tecniche, quale la GBR, erano nella fase del sviluppo, della comprensione, della definizione. Negli anni successivi la tecnologia, le procedure hanno avuto la fase di consolidamento, rendere sicuri e certi i risultati che prima alcuni studiosi riuscivano ad ottenere. Oggi siamo nella fase dell'applicazione clinica di quello che molti anni di lavoro hanno portato alla portata di tutti. Oggi un dentista normale può fare cose che prima riusciva a fare solo un chirurgo esperto. questo è un grande vantaggio. Sono assolutamente d'accordo con Albert Einstein, che è un mio riferimento, molte delle sue frasi sono presenti nel mio ufficio e credo che sia molto importante fare attenzione a questo aspetto. Quello che io insegno ai miei studenti è una cosa estremamente forte nella quale credo molto. Noi lavoriamo con il microscopio, lavoriamo con gli ingrandimenti, ma ogni tanto chiedo ai miei studenti alzate gli ingrandimenti e guardate il paziente nella sua globalità. Solo così riusciremo a tenere sempre l'umanità al centro del nostro trattamento tecnologico. Io ho conosciuto la piezochirurgia, credo, agli inizi della sua storia. Grazie alla conoscenza ed amicizia con l'amico professor Vercellotti, credo di essere stato tra i primi a provare e utilizzare la piezochirurgia. Credo di essere stato anche tra i primi o tra i pochi a fare degli studi comparati e andare a vedere e capire che cosa poteva portare come beneficio e come vantaggio nella pratica quotidiana la piezochirurgia. Credo che la piezochirurgia sia un grande beneficio. Ho scritto dieci anni fa quella che era la prima e unica review sulla piezochirurgia, di vent'anni di uso di piezochirurgia. E anche nel mio libro di prossima pubblicazione cercherò di spiegare una cosa fondamentale. Non tutto ciò che vibra è piezochirurgia. Bisogna capire molto bene cosa sta dietro a questo mondo per poterne godere ed apprezzare i veri vantaggi e i grandi benefici che la piezochirurgia può dare all'operatore nella sua tranquillità così come al paziente per una prestazione più sicura, più tranquilla e meno dolorosa. Una delle cose che insegno, che mi piace condividere ovunque nel mondo è il concetto di pain management. C'è una grande differenza fra pain control e pain management. Pain control è fare bene l'anestesia, non far sentire dolore al paziente. Pain management significa controllare tutte le espressioni attorno al dolore che sono non solo fisiche ma anche psicologiche, che non sono solo percepite ma sono anche il timore di percepirlo. E credo che sia più che mai questa l'era di contraddire Borges e dire che il dentista non deve essere più sinonimo di dolore. Abbiamo le conoscenze, abbiamo gli strumenti, abbiamo le tecniche, le tecniche che devono essere anche di comunicazione, di comprensione delle esigenze del paziente per rendere la nostra procedura non più dolorosa. E il percepito del paziente deve essere oggi una nuova percezione ed un nuovo mondo. La tecnologia, quale la piezochirurgia, ci dà un grande aiuto ma compito dell'operatore è saperlo comprendere ed applicare nel modo migliore. Come dicevo prima ho iniziato ad usare la piezochirurgia più di vent'anni fa. Ricordo ancora le mie perplessità all'inizio perché è difficile credere al concetto di piezochirurgia. Oggi siamo tutti consci dei vantaggi che porta ma sono passati più di vent'anni. Io ricordo ancora molto bene quando mi spiegarono che c'era una macchina che tagliava l'osso ma non disturbava i tessuti molli e il mio pensiero in quel momento fu un altro trucco delle aziende per rubare soldi ai dentisti. Ho dovuto ricredermi. Tutti questi anni mi hanno dimostrato che in realtà la piezochirurgia dà dei grandi vantaggi. È difficile comprenderli, è difficile spiegarli, è difficile venderli. La piezochirurgia rende più facile, meno traumatizzante una procedura che è possibile fare anche altrimenti. Non aggiunge procedure, le rende migliori e quindi rende migliore il dentista e rende migliore il suo modo di lavorare e il modo in cui il suo lavoro è percepito dal paziente. Bisogna ricordare sempre che i nostri pazienti escono dal nostro studio credendoci più o meno bravi basandosi solo ed esclusivamente su quanto dolore hanno percepito. Non sull'impianto, non sul biomateriale, non sulla tecnica chirurgica. Il loro commento sarà solo e sempre non ho sentito male e un bravo dentista. Ci sono due consigli che io do sempre a chi inizia e acquista magari la piezochirurgia. Uno in particolare, tenerlo pronto e acceso. Conosco tanti colleghi che comprano l'apparecchio, lo mettono in un angolo e non lo usano. Io per primo, tante volte in passato, iniziavo una procedura banale, come può essere un'estrazione. La procedura diventava più difficile. Guardavo il piezo, il piezo mi guardava e pensavo potrei usarlo, ma non era pronto. E allora il mio consiglio banale che do a tutti. Ogni mattina, quando entrate nello studio, chiedete sempre alla vostra assistente di accendere il piezo e di tenerlo pronto. Per essere pronti a qualunque evenienza la giornata possa presentare. Uno dei più gravi errori che vedo commettere dai miei colleghi e credere che la piezochirurgia sia per le procedure chirurgiche avanzate, complesse, difficili. Certo, lo è. Ma la piezochirurgia cambia la vita nella professione di tutti i giorni partendo da un'estrazione semplice. E se questa era la risposta alla domanda facile, la risposta alla domanda difficile è perché la piezochirurgia oggi ci dà la possibilità di avere procedure chirurgiche più attente e più rispettose della biologia. Credo che questa domanda sia davvero valida e importante, non solo come odontoiatra, ma nella vita di tutti i giorni. Come odontoiatra, una delle cose che io insegno quando parlo di pain management è imparare a gestire i pazienti che sono ansiosi o che sono fobici. La psichiatria ci insegna che un paziente fobico rinuncia a curarsi oggi sapendo che questa sua rinuncia lo porterà ad avere un dolore maggiore domani, ma preferisce non soffrire oggi e accettare il rischio del dolore domani. Questo spesso accade anche nella vita. Molto spesso noi nella vita cerchiamo di non affrontare oggi un problema che esiste perché non vogliamo soffrire oggi e sappiamo che questo ci farà soffrire di più domani. Ed ecco allora che dobbiamo imparare a gestire queste cose nella nostra vita quotidiana e come operatori sanitari per aiutare il paziente a capire questo aspetto che è un aspetto profondo psicologico ma che può fare la differenza e ricordarci che nella nostra pratica quotidiana molto spesso è più importante far capire al paziente l'importanza del nostro trattamento che non il trattamento stesso. E se posso lasciare un messaggio ai giovani colleghi alle giovani generazioni ma anche ai colleghi meno giovani ma che hanno ancora voglia di mettersi in gioco perché non bisogna mai smettere di mettersi in gioco è continuare a ricevere informazioni. Il nostro lavoro è un lavoro molto bello ma mentre Freud per dimostrare le sue competenze aveva bisogno solo di un sofà e della sua mente noi per dimostrare le nostre competenze abbiamo bisogno di materiali di mezzi di strumenti il nostro dovere è essere sempre attenti a quello che il mercato propone recepire le proposte ma anche saperle valiare con l'attenzione di uno scienziato inteso come persona che fa scienza e capire quello che è vero e quello che è falso per sapere ogni giorno poter acquisire quello che è davvero importante per ricambiare i nostri pazienti perché i nostri pazienti ci danno ogni giorno una cosa molto importante che non è l'aspetto economico ma loro ci danno ogni giorno la loro fiducia nostro dovere e non tradire mai la fiducia dei nostri pazienti grazie a tutti